Tre segni che dovresti continuare a provare con lui non sono segni, segnali, diciamo, che arrivano da questa persona, ma che ti arrivano dall'universo, perché noi siamo tutti in interdipendenza, siamo tutti interconnessi uno con l'altro, siamo di fatto energia e quando interagiamo con una persona interagiamo a livello energetico. Prima ancora che a livello fisico, diciamo così, oppure a livello emotivo, dobbiamo capire quali sono i segnali, i segni che bisogna continuare a provare, a mantenere una relazione, a cercare di... provare non vuol dire inseguire, non vuol dire essere, ma vuol dire nella testa mantenere una connessione con questa persona, perché probabilmente potrebbe essere la persona giusta, la persona che ti manda all'universo. La prima cosa fondamentale è quindi tenere presente che esistono delle dinamiche energetiche che sono più potenti, sia delle dinamiche emotive, sia delle dinamiche logico-razionali. E quando ci sono queste dinamiche energetiche, l'universo dà dei segnali. Quali sono questi segnali che arrivano? Allora, il primo segnale che deve tenere presente sono le sincronicità, gli eventi sincronici. Gli eventi sincronici sono degli eventi che è molto improbabili, sono delle coincidenze significative, che però fanno sì che questa persona si manifesti nella tua vita proprio quando, diciamo, tu ne senti l'esigenza, senti il bisogno. E' una situazione che la fisica quantistica chiama entanglement, cioè una connessione profonda. Questo è il primo fatto, cioè anche se vuoi allontanarti da questa persona, anche se vuoi, anche se lui vuole allontanarsi da te, capita sempre qualcosa che vi fa incrociare, le vostre vite tendono sempre a incrociarsi, come se non riuscissi ad allontanarti. Un'altra cosa interessante è che spesso in queste situazioni, quando uno dei due si allontana, l'altro comunque cerca sempre di mantenere una relazione, ed è in modo alternato. Non c'è una persona che fugge, una persona che insegue, ma sono situazioni che viaggiano in questo modo. Quindi è un altalenarsi, perché significa che l'universo, le energie universali, diciamo, di cui noi facciamo parte, perché, ripeto, noi siamo energie, siamo interconnessi con tutto quello che circonda, è come se l'universo ci stesse mettendo alla prova. E' molto importante, questo significa che non bisogna arrendersi. Quando capitano questi fatti, significa che mai arrendersi completamente. E una cosa importante da fare, però, è guardare dentro di sé. Perché soltanto se guardi dentro te stessa, potrai capire quali sono le reali motivazioni. E soprattutto, invece di, diciamo, vivere male questa situazione, perché ovviamente queste situazioni sono sempre un po' turbolente, bisogna imparare a essere grati per l'universo, cercare di capire che cosa vuole trasmetterci questa persona e perché l'universo non ci permette, non permette un allontanamento, ma di fatto è sempre, c'è sempre una continuità. Per fare questo è molto importante imparare un'arte che è l'arte della gratitudine, essere grati. Ci sono diverse modalità per essere grati di quello che l'universo ci fa sperimentare, perché tutto quello, anche le situazioni negative, diciamo, possono fortificarci. Una pratica interessante che si può fare è quella dell'oponopono, cioè questa forma di meditazione hawaiiana che permette di sviluppare la gratitudine. Ecco, quindi imparare ad essere grati, non è che uno deve sviluppare per forza di praticare l'oponopono e ringraziare, ma il ringraziamento, al di là della tecnica, l'essere grati all'universo anche per le prove a cui ci sottopone, è molto importante. È qualcosa che capita anche in tutte le tradizioni. Se non fossimo sottoposti a prove, ricordiamoci, non so, anche nella Bibbia, ci sono tutta una serie di situazioni in cui le persone sono sottoposte a prove, ma queste prove sono prove che noi possiamo superare. Di fatto le prove che l'universo ci presenta sono situazioni che in qualche modo, in un'ottica, diciamo, energetica di crescita personale, ci permette di sviluppare nuove competenze, ci permette di sviluppare nuove, diciamo, un percorso di crescita. Quindi, se l'universo non ti vuole far allontanare da questa persona, è perché questa persona, in qualche modo, deve insegnarti qualcosa. Non è detto che debba, per forza, diciamo, essere una relazione poi stabile, definitiva, o definita con questa persona, ma in quel momento lì, in quel momento specifico in cui ricevi segnali dall'universo, vuol dire che questa persona deve ancora provare, deve ancora sperimentare delle cose. Non si è ancora concluso la reciproca interazione, la reciproca interdipendenza. E questo è un altro segnale, insomma. Quindi abbiamo detto il primo segnale sono gli eventi sincronici, il secondo segnale sono un'alternanza di tira e molla, diciamo così. E il terzo segnale fondamentale è che, nell'interazione con questa persona sviluppi delle capacità spirituali maggiori. Hai una, diciamo, l'interazione con questa persona ti spinge a vedere la vita per quello che è, oltretutto a capire anche delle cose che trascendono la vita stessa, delle cose che non sono più soltanto legate alla vita in sé, ma di fatto la trascendono, la superano, permettono di, delle cose che permettono di vivere, ti permettono di vivere una situazione, diciamo, diversa, una situazione migliore. Ecco, questi sono questi segnali, quindi il renderti conto profondamente, endoscopicamente, come terzo segnale, che questa persona ti procura comunque una crescita mentale, una crescita spirituale. Perché poi l'esperienza della vita è questa, se noi restiamo collegati soltanto a esperienze, tra virgolette, terrene, mondane, beh, non avremo una particolare crescita spirituale. Invece ci sono alcune persone che contribuiscono, almeno per un certo periodo della nostra vita, a sviluppare, diciamo, delle capacità, un modo, uno stato interiore che trascende la vita stessa. Perché la vita stessa, in quanto corpo fisico, diciamo così, è destinata a finire, o perlomeno a trasformarsi, insomma, ma la nostra anima, invece, fa un percorso che è un percorso molto più vasto, un percorso al di là del tempo, al di là dello spazio, e deve essere un percorso evolutivo, quindi fare esperienze che siano sempre più evolutive. E questo è un po' il concetto, il concetto fondamentale. Bene, quindi, quando vedi questi segnali, quando hai queste sensazioni, vuol dire che con quella persona non è tutto finito, devi provarci ancora, devi provare ancora a portare avanti una situazione. Ora, io l'ho fatto, diciamo, parlando come se fosse una donna verso un uomo, però, ovviamente, questo mutatis mutandis vale anche da un uomo verso una donna. Insomma, le relazioni sono relazioni, questo tipo di relazione non può non essere portato avanti, non può non essere sviluppato in qualche modo, perché è come se tutto l'universo ti spingesse in quella direzione. Quindi si tratta di fondamentalmente imparare a seguire il flusso, a seguire il flusso degli eventi che ti spingono in una determinata situazione. Se vedi questi tre segni, sii grato alla vita, all'universo che ti dà questa opportunità di crescita spirituale, di crescita interiore, di rafforzamento, anche se magari può essere un'esperienza di per sé in primo, come dire, di primo achitto non particolarmente, diciamo, positiva, però la positività si vede a lungo termine. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e se vuoi sotto il video c'è un cuoricino puoi fare una piccola donazione anche di valore simbolico diciamo al canale ed è sempre ben accetto. grazie a tutti.